Con riguardo al tutor, oggi abbiamo pubblicato i dati, sono un grande successo, un importante successo, al di là di qualcuno che non aveva creduto a questa iniziativa, sono numeri veramente molto, molto importanti, il 99,8% delle scuole che ha risposto positivamente, quindi direi che coinvolgimento totale. Questo va proprio di pari passo con quello che dicevo prima, la nostra Costituzione esalta la persona, mette al centro la persona, la scuola costituzionale mette al centro la persona dello studente e chiede una didattica personalizzata, una didattica strutturata per valorizzare i talenti di ciascun ragazzo.